Ciao a tutti ragazzi e bentornati su The Guardians Io sono Splash e oggi siamo qui con il solito appuntamento delle esotiche della settimana Xur quest'oggi è esponato vicino ai vendor del crogiolo Inoltre vi ricordo che Xur lo trovate in torre dalle 10 del mattino di venerdì fino alle 10 della domenica mattina Andiamo quindi a vedere che cosa vende l'agente dei 9 questa settimana Dunque abbiamo il Tycho Nauta, casco che ho già Un casco che presenta torre di controllo con cui i lanciarazzi seguono i bersagli Il radar rimane visibile quando si mira con armi pesanti e hai più possibilità di trovare munizioni pesanti Abbiamo un aumento di intelletto o di disciplina Abbiamo ombra inversa quindi abbiamo più super energia uccidendo i mostri dell'oscurità Oppure carico pesante con cui abbiamo più super energia uccidendo mostri dell'oscurità con munizioni pesanti E poi abbiamo innervazione con cui abbiamo energia bonus delle granate quando si raccoglie una sfera di luce È un pezzo che onestamente non trova largo spazio, penso proprio di no Io ne ho due o tre che comunque poi ho infuso con altri caschi Però onestamente non ci trovo tutta questa utilità in nessun frangente Per quanto riguarda il cacciatore abbiamo il pegno del gravitone Altro casco dell'anno 2.0 totalmente nuovo che volevo da tantissimo Andiamo un po' a vedere che cosa ci propone Abbiamo ombra invasiva dove praticamente abbiamo la schivata Togliendo un perk dall'ultima colonna del predatore della notte Quindi possiamo utilizzare un altro perk sulla sottoclasse Abbiamo o un aumento di intelletto o di forza Abbiamo polvere dell'asset con cui le granate forniscono super energia bonus O carico pesante con cui abbiamo energia bonus uccidendo mostri dell'oscurità con armi pesanti E infine abbiamo stogiameglio con cui le sfere di luce ripristinano la rigenerazione dello scudo Un pezzo che può andare bene ecco diciamo così Non ha niente di folle, di esagerato però comunque può andare bene per qualche situazione Per lo stregone abbiamo i vestiti dell'alchimista Un'armatura torace nuova dell'anno 2.0 E vediamo un po' Da acciaio a oro Fornisce la possibilità di guadagnare l'umen raccogliendo munizioni primarie Con la super piena le sfere ricaricano l'energia delle granate e del corpo a corpo Aumentiamo o la forza o l'intelletto Munizioni speciali quindi la possibilità di trovare più munizioni speciali o munizioni pesanti Riduce i danni subiti dalle bracci dell'arco Oppure abbiamo un'armatura aumentata mentre utilizziamo la sottoclasse dell'arco Anche questo è un buon pezzo per determinate cose Magari per un cala alla notte Se abbiamo bisogno di subire meno danni dalle bracci dell'arco Però non è che sia un pezzo davvero straordinario a mio parere Che però comunque vi consiglio di comprare se avete tante monete Perché comunque è un pezzo nuovo quindi per collezione ci potrebbe anche stare Questa settimana Axur ci propone anche un'arma primaria Un'arma che tantissimi volevano e vogliono E anch'io tuttora la volevo e la comprerò quindi adesso Ovvero la super celazzalo Che tra l'altro se non lo sapete Shanks ha droppato a culo Potetevi trovare il video su facebook sulla nostra pagina Andiamo un po' a vedere cosa fa I proiettili ad arco possono concatenare fulmini contro i nemici accalcati Intanto vi ricordo anche che dovrebbe essere tipo l'unica arma primaria Con elementi diversi dal cinetico Questa è ad arco Abbiamo i vari mirini Poi abbiamo persistenza Più si usa quest'arma vi diventa precisa Forgiatura a martello Canna da carabina O telaio rinforzato Infine saette dal blu Con cui le doppie uccisioni Rigerano una piccola quantità di super energia E ripristinano proiettili nel caricatore Dovrebbe essere un'ottima arma Ne parlano tutti benissimo La comprerò e la proverò E magari prima o poi vi faremo anche una recensione esotica Per finire abbiamo anche l'engramma storico per armi speciali Con cui potete trovare un'arma speciale esotica dell'anno 1 Con 31 strane monete a testa Poi abbiamo nelle curiosità I soliti propulsori al plasma I propulsori del vuoto Le sintesi pesanti Con cui per una strana moneta vi da 3 sintesi pesanti 7 strane monete per 5 3 di ori E abbiamo anche gli aghi di vetro Con cui potete praticamente riforgiare i perk Delle armature esotiche E infine abbiamo particelle di luce Con cui per due strane monete abbiamo una particella di luce Bene ragazzi Io devo dire che vorrei fare un piccolo commento È stato uno dei più bei XUR secondo me Di questo anno 2.0 Perché? Semplicemente perché Prima di tutto vende un'arma davvero interessante Che tutti volevano secondo me E vende due caschi e un busto torace Dell'anno 2.0 Di cui due comunque io non avevo Per cui secondo me vale davvero la pena Fare spese questa settimana da XUR Bene Io con questo vi saluto Vi invito a iscrivervi al canale Mettete un mi piace a questo video Seguitici anche su Facebook Su Twitter e su Twitch E su Bungie.net Dove trovate il nostro clan De Guardian Sith Alla prossima Ciao a tutti guardiani Amin Grazie.